Salve ragazzi, in questa nuova video lezione di fisica affronteremo per intero un problema modello, quindi un problema a cui possiamo fare riferimento perché affronta un argomento importante ed introduce schemi di risoluzione che poi magari si possono ripetere in altri problemi analoghi. Il problema già ve l'avevo introdotto durante un incontro su MIT, però avevo lasciato a voi il compito di portare a termine passaggio per passaggio lo svolgimento. In questo video invece vi spiegherò alcuni dettagli e tutti i passaggi della risoluzione e il problema sarà l'occasione anche per rispolverare qualche concetto di elettrostatica sul campo elettrico e sul moto delle particelle in un campo elettrico e quindi è un problema interessante perché coniuga il nuovo argomento, cioè la relatività, con l'argomento precedente, quindi credo che sia un esercizio molto importante. Allora, un fascio di protoni sta percorrendo un acceleratore di particelle alla velocità V0 di 1,85 per 10 alla 8 metri al secondo. Quindi ha questa velocità iniziale quando entra in una zona dove i protoni sono accelerati da un campo elettrico uniforme e, grosso modo, semplificando ciò che accade in un acceleratore lineare di particelle. Ok? Corrispondente è una differenza di potenziale elettrico delta V uguale a 15 megavolt, quindi 15 milioni di volt è la differenza di potenziale che accelera questa particella che è un protone. Quindi la particella, intanto identifichiamola bene, ha una carica che è pari a E. È il simbolo con cui si indica per convenzione in fisica la carica dell'elettrone senza il segno, il protone, a parte il segno positivo, ha la stessa carica dell'elettrone, che è pari a 1,602 per 10 alla meno 19 Coulomb. Bene. Altro dato che ci sarà utile su questa particella è la sua massa. La massa del protone è circa 1,673 per 10 alla meno 27 kg. Questi invece erano Coulomb. Non l'ho scritto. Ecco, adesso va bene. Bene. Una volta presentata la particella e sarà l'oggetto del nostro esercizio, vediamo di immaginare come il sistema all'interno del quale questa particella si viene a trovare. Si trova in una zona in cui c'è una differenza di potenziale dovuta a un campo elettrico. Ricordiamo brevemente questi concetti. Allora, qui ho rappresentato un condensatore, un condensatore piano, perché è un buon esempio di uno spazio, di un sistema in cui esiste un campo elettrico uniforme, come quello del nostro esercizio. Cioè in questo sistema il campo elettrico è lo stesso punto per punto. Possiamo anche ricordarci, anche se va un po' al di là dell'esercizio, qualche relazione riguardante questo campo elettrico. Bene. Cominciamo da questa relazione. All'interno del condensatore abbiamo detto c'è un campo elettrico. Il campo elettrico come si definisce operativamente? Si immagina di posizionare una carica all'interno dello spazio dove esiste il campo elettrico, cioè del condensatore. In questo caso potremmo prendere il protone come carica spia, si misura la forza che sente questa carica e si divide per la carica stessa e si ottiene l'intensità del campo elettrico. Questa è una conseguenza formula inversa. Se ho una carica all'interno del condensatore e conosco il campo elettrico dentro il condensatore, ebbè il campo elettrico è il prodotto fra, scusate, la forza che sente la particella è prodotto tra il campo elettrico e la carica stessa. Nel testo dell'esercizio si fa riferimento alla differenza di potenziale. Beh, in un campo elettrico, scelti due punti, esiste una differenza di potenziale, che in parole povere è una sommatoria di tutti i campi elettrici che io ottengo se seguo un percorso dalla prima posizione alla seconda. Quindi scelti due punti all'interno di uno spazio dove c'è un campo elettrico, se io sommo tutti i campi elettrici che incontro lungo il percorso, sommo, tra virgolette, ottengo la differenza di potenziale. In realtà è una circuitazione, ne abbiamo parlato, ma se abbiamo uno spazio in cui c'è un campo elettrico uniforme, come il condensatore, beh, il conto è molto facile. Se io prendo il valore E uguale in tutti i punti e lo moltiplico per la lunghezza di questa linea che congiunge i due punti, quindi E uguale in tutti i punti, ottengo la differenza di potenziale fra i due punti. Se mi interessa calcolare la differenza di potenziale fra le due armature, che è poi il dato che ci dà l'esercizio, beh, questo è uguale al campo elettrico, uguale in ogni punto, per la distanza fra le due armature, quindi la distanza fra le armature del condensatore. Ok, allora, definizione di campo elettrico in generale, differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme, ma il campo elettrico, quindi, è legato a delta V, e delta V è legato alla carica che c'è sulle armature, tramite questa grandezza C, capacità, che è il rapporto tra la carica presente nelle armature e la differenza di potenziale. Quindi, ad esempio, posso ricavare la carica da questa relazione, che è la formula inversa, o posso ricavare la differenza di potenziale come rapporto tra la carica e la capacità. La capacità la posso calcolare se conosco come è fatto il condensatore, e questo tramite questa relazione qui, capacità uguale a ε0, che tiene conto del materiale presente all'interno del condensatore, invece è un materiale isolante, tipicamente si considera il vuoto, quindi ε0, appunto, la costante elettrica del vuoto, ma se c'è un materiale diverso, oppure, ovviamente, sempre un isolante, quindi un elettrico, si mette la sua costante di elettrica, per s che è l'area delle armature, per d che è la distanza. Ok. Con tutte queste relazioni, noi possiamo, in qualche modo, passare da una grandezza all'altra, quindi possiamo ricavare, per esempio, il campo elettrico, conoscendo la differenza di potenziale, conoscendo le altre caratteristiche costruttive del condensatore. Allora, prendiamo di nuovo il nostro schema, la particella entra. Altra relazione che mi servirà, l'energia che possiede questa particella è pari alla differenza di potenziale per la carica. Altra relazione di elettrostatica importante, molto importante in questo esercizio. Questo perché la differenza di potenziale dobbiamo immaginarcela un pochettino come l'altezza in un campo gravitazionale moltiplicata per G. In un campo gravitazionale io ho un'energia, scriviamo qua sotto, se io sposto una massa da una posizione a un'altra, immaginando da un punto più basso verso un punto più in alto, all'interno di un campo gravitazionale io questa energia la calcolo come Mg per H, dove c'è una parte che dipende da quale particella sto spostando e della sua massa. Se sposto una particella di massa piccola impiego meno energia, se sposto una particella di massa grande impiego un'energia maggiore. Mentre G per H dipendono solamente dal campo gravitazionale in questione, G è il valore costante relativo alla Terra in via semplificata, e H è la differenza di altezza tra i due punti che ho scelto. Nel caso del campo elettrico questa relazione diventa, c'è un'analogia tra i due sistemi, ed è pari a Q per E per D. Guardate come si somigliano moltissimo queste relazioni. Qui abbiamo la massa, cioè la massa della particella che veniva spostata. Qui abbiamo la carica della particella che viene spostata. Perché lì la massa e qui la carica? Perché lì lavoravo contro il campo gravitazionale e le masse sono le grandezze sensibili dal campo gravitazionale. Qui lavoriamo contro il campo elettrico, se vado contro le linee di campo, oppure ci lasciamo trasportare dal campo elettrico, ma in ogni caso la grandezza che caratterizza la particella qui non è la massa, ma è la carica. E ha preso il ruolo di G, rappresenta il campo con cui sto lavorando, D è il campo gravitazionale e qui è il campo elettrico, e D è la distanza tra i due punti che ha preso il posto dell'altezza, cioè della differenza di quota nel caso gravitazionale, è abbastanza simile. Allora, il prodotto E per D è quello che noi abbiamo chiamato delta V, quindi Q per delta V significa semplicemente che sto calcolando l'energia necessaria a spostarmi da un punto a un altro, necessaria se devo fare un lavoro contro il campo elettrico. Se invece io vado a favore del campo elettrico, cioè mi lascio aiutare dal campo elettrico e l'energia che il campo elettrico mi dà. A parte il verso, che ora vedremo meglio con la figura, questa energia è la carica per la differenza di potenziale tra due punti. Partenza e arrivo. Torniamo al nostro schema. Se io ho il protone, che inizialmente si trovava all'ingresso del condensatore, entra da qui, qui comincia a sentire l'effetto del campo elettrico, e allora si sposterà da qui a qui. E quindi da questo punto a questo punto, dove c'è una differenza di potenziale di 15 megavolt. Ok? Di 15 megavolt, perché è quella che esiste tra le due armature. L'armatura a potenziale più alta è quella positiva, e quella a potenziale più bassa è quella negativa. Quindi devo creare, devo immaginare che ci sia una differenza di 15. Posso crearla come voglio io, non cambia niente. Per esempio, qui 0 e qui più 15. Ok? Oppure qui meno 15 e qui 0. L'importante è che ci sia una differenza di 15 megavolto con il più a potenziale maggiore. È come se partissimo da un punto a quota elevata e ci muovessimo verso un punto a quota bassa. Ripetiamo l'analogia col campo gravitazionale. Questa particella nel campo gravitazionale verrebbe accelerata. Il campo gravitazionale le dà energia. Ok? Qui il campo elettrico dà energia al nostro protone che va in discesa dal punto a potenziale più alto al punto a potenziale più basso. E questa energia quant'è? Nel caso gravitazionale la calcolerei come m per g per la differenza di altezza, il dislivello fra i due punti. Nel caso elettrico la calcolo come q che ha preso il posto di m carica per e che è il campo elettrico che ha preso il posto di g per la distanza tra i due punti che ha preso il posto della differenza di altezza da qui a qui. Solo che energia per distanza scusi il campo elettrico per distanza questo prodotto ok? Lo chiamiamo delta b quindi q per delta b. Allora questo è il motivo per cui nel libro di testo questo esercizio inizia dicendo che la differenza di energia è pari a delta b per q deriva da questa considerazione che per recuperare la quale siamo dovuti andare un pochettino a ritroso a ripassare qualche concetto di elettricità ok? Allora abbiamo questa particella che arriva qui inizia il suo percorso dentro il condensatore è già una velocità iniziale abbastanza considerevole 1,85 particella 8 metri al secondo e riceve energia che è pari alla sua carica per la differenza di potenziale che c'è tra il punto di partenza e il punto di arrivo bene quello che succede dal punto di vista energetico è diverso tra ciò che predice la fisica classica e ciò che predice la teoria della relatività secondo la fisica classica la particella al punto iniziale arriva con una certa energia cinetica legata al fatto che ha una velocità riceve energia quindi arrivato qua si trova un'energia maggiore di quella iniziale perché si trova l'energia cinetica che aveva all'inizio più l'energia che gli è stata fornita dal campo elettrico che è delta V per Q questa somma mi dà l'energia cinetica finale questo secondo la fisica classica e secondo la fisica classica l'energia cinetica ha un'espressione ben nota che è un mezzo massa per velocità al quadrato secondo la relatività c'è qualche differenza innanzitutto esiste l'energia a riposo che però non è che ci crei poi tutte queste complicazioni cioè la particella quando è qui ha già un'energia a riposo se fosse ferma avrebbe comunque questa energia a riposo in più all'energia cinetica legata alla sua velocità solo che la relazione che ci permette di calcolarla è diversa rispetto a quella della fisica classica adesso la andremo a scrivere nel suo percorso la particella riceve energia dal campo elettrico e arrivato qui si trova ad avere l'energia a riposo che già aveva fin dall'inizio e non è cambiata si trova ad avere in più una quantità di energia quindi avrà un'energia a riposo più un'energia cinetica che è più grande rispetto a quella che aveva all'inizio perché adesso ha una velocità maggiore andiamo nel vivo di questo esercizio e iniziamo a ragionare su come si scrive l'energia iniziale e finale prima secondo la fisica classica e poi secondo la fisica relativistica a proposito la parola chiave del video di oggi è compasso allora andiamo a vedere secondo la fisica classica la particella avrà un'energia cinetica iniziale e quindi andiamo a scrivere energia iniziale stiamo lavorando con la fisica classica l'energia iniziale sarà data da questa relazione sarà data da un mezzo massa per velocità al quadrato la velocità è la velocità iniziale quindi la indico con v0 la massa nella fisica classica beh c'è una sola massa non c'è la massa della particella la massa del protone che è questa qui ok ripasso di elettrostatica così magari se vi do il documento trovate i riferimenti e questa è la risoluzione secondo la fisica classica del problema energia iniziale un mezzo massa per velocità al quadrato l'energia finale beh se è sempre un'energia cinetica ed è un mezzo massa per velocità al quadrato cosa cambia tra queste due relazioni beh che qui uso la velocità con cui la particella entra nel campo elettrico che ha segnato nel testo quell'1,85 per 10 alla 8 metri al secondo mentre qui ho la velocità che raggiunge alla fine del tragitto che sarà maggiore come mai questa energia può essere più grande di questa l'abbiamo già detto perché lungo il tragitto l'elettrone riceve ad ogni dx di spazio che percorre riceve una quota di energia dal campo elettrico e quanto vale beh vale differenza di potenziale tra i due punti del tragitto percorso e per la carica al fine di tutto il tragitto la differenza di potenziale sarà tutta la differenza di potenziale esistente tra le armature del condensatore questi 15 megavolto quindi che relazione c'è tra queste due energie bilancio energetico beh il bilancio energetico sarà che l'energia iniziale più l'energia ricevuta dal nostro protone delta E mentre cammina mentre si muove all'interno del campo elettrico è pari all'energia finale e se la vogliamo esplicitare un po' meglio questa relazione beh quel delta E si può scrivere meglio ovviamente no? e delta E è pari a delta V per Q quindi in questa relazione voi avete l'energia cinetica iniziale che è tutta l'energia iniziale non ci sono altri tipi di energia all'inizio stiamo ragionando secondo la fisica classica più l'energia che viene fornita al nostro protone dal campo elettrico delta V per Q ed è uguale questa somma deve essere uguale all'energia finale che è sempre cinetica cosa possiamo fare a questo punto? beh a questo punto possiamo determinare V quindi facciamo qualche passaggio puramente matematico moltiplichiamo intanto tutta la relazione per 2 così qui va via un mezzo qui appare un 2 e qui va via un mezzo bene poi io dividerei per la massa dividendo per la massa qui va via la massa e qui c'è V0 qui c'è V0 e rimane qui viene una divisione per la massa e qui va via la massa a questo punto tutto questo se la leggo al contrario è V4 quindi V4 lo mettiamo a primo membro siamo arrivati a questo giallo non mi serve più calcoliamo V facendo l'ardice quadrata quindi a questo punto abbiamo che V senza più il quadrato è pari alla radice quadrata di tutto questo andiamo a mettere in equazione e mettiamo una radice quadrata radice quadrata radice quadrata eccola qui quindi questo secondo la fisica classica è il metodo che devo seguire per trovare la velocità con cui la particella esce dal campo elettrico qui non è visualizzata la domanda che era posta subito dopo la domanda è determinare l'incremento di velocità subito dalla particella quindi se adesso determiniamo la velocità finale della particella ok facendo la differenza V-V0 risponderemo a una domanda ok apro una finestra di Python tanto per avere un semplice calcolatore immediato è anche comodo per scrivere immagino rispetto alla calcolatrice tradizionale allora calcoliamo questo risultato facendo la ardice quadrata di V0 allora V0 il dato era 1,85 per 10 alla 8 ok altri dati che mi serviranno qui o fra poco Q uguale a 1.602 per 10 alla meno 19 utilizzo sempre la proprietà di misura di base del sistema internazionale la massa è 1.673 per 10 alla meno 27 kg ok una volta immessi i dati vi lo calcoliamo facendo radice quadrata di V0 al quadrato ok più 2 per delta V che è 15 mega quindi 15 per 10 alla 6 ok per Q diviso M vi risulta questo numero qui ce lo facciamo scrivere in maniera un pochettino più più simpatica più formattata quindi ce lo facciamo scrivere con due cifre dopo la virgola in notazione esponenziale e 1,93 per 10 alla 8 quindi questo facendo bene i calcoli risulta 1,93 per 10 alla 8 ok metri al secondo beh chiaramente questo valore è cresciuto rispetto a quell'1 1,85 per 10 alla 8 è cresciuto in una certa quantità facendo la sottrazione fra i due posso anche determinare l'incremento di velocità tutto ciò secondo la fisica classica bene vediamo cosa cambia secondo la relatività beh secondo la relatività innanzitutto abbiamo diverse espressioni per l'energia e vi ricordo che tutte queste relazioni hanno bisogno del parametro gamma ok che il gamma di Lorenz che ha questo significato è 1 fratto radice di 1 meno beta beta al quadrato ok dove è il rapporto tra la velocità e la velocità della luce ok queste due relazioni ci serviranno l'energia della particella e la possiamo esprimere in termini di energia totale cioè di somma tra l'energia a riposo e l'energia cinetica questa energia totale relativistica sarà pari gamma per la massa la massa in relatività la chiamiamo m0 perché con m intendiamo la massa relativistica che non è altro che il prodotto gamma per m ok e il tutto per la velocità della luce al quadrato che è una costante la parte variabile in questa espressione attenzione è gamma ok bene ok quindi nel nostro problema abbiamo due situazioni la particella che entra nel condensatore e la particella che esce tra le due situazioni quella che è cambiata è gamma quindi l'energia iniziale energia totale relativistica ma iniziale la calcoliamo usando un gamma che chiamiamo gamma 0 cioè il gamma dentro il quale si ha tramite beta la velocità iniziale ok e l'energia finale che ha la stessa espressione ma la calcoliamo usando un altro valore di gamma che è quello corrispondente alla velocità finale quindi nell'espressione dell'energia totale relativistica abbiamo due fattori che rimangono fissi m0 e c ok e il fattore gamma che è quello che tiene conto il cambiamento di velocità gamma per m 0 è un prodotto a cui diamo il nome di massa relativistica ma la massa vera della particella è quella a riposo m0 direi di lasciarla scritta in questa forma e allora scriviamo il bilancio energetico nel caso classico il bilancio energetico ci diceva che l'energia cinetica iniziale più l'incremento di energia quella fornita dal campo elettrico ci dava l'energia cinetica finale me lo copio così lo modifichiamo così osserviamo meglio le differenze dobbiamo scrivere che l'energia totale relativistica iniziale quindi gamma 0 m0 c4 ricordatevi che c'è gamma 0 perché c'è il gamma il fattore di Lorenz calcolato con la velocità iniziale ok più delta e variazione di energia dovuta al campo elettrico che poi abbiamo scritto come delta v per q se ricordate uguale all'energia totale finale quindi gamma per m0 per c4 in questa espressione i due gamma sono diversi questo è calcolato con una velocità che è quella iniziale che io conosco quindi quel gamma 0 io lo posso calcolare numericamente usando l'espressione del fattore di Lorenz mentre questo è incognito quindi questo gamma è incognito allora scriviamo l'intera espressione in nero e segniamo in rosso questo gamma perché è la quantità incognita ok benissimo tutti i resti sono quantità note m0 è la massa a riposo della particella c è la velocità della luce delta v è assegnato è la differenza di potenziale tra le armature del condensatore q è la carica della particella e gamma 0 è il fattore di Lorenz è calcolato con la velocità iniziale allora a questo punto vediamo di ricavare gamma e allora scriviamo dunque gamma per m0 per c4 ok è pari a questo ho scambiato prima e secondo membro niente di più a questo punto dividiamo tutto per m0 e c4 quindi da m0 e c4 da qui vanno via da qui vanno via perché sto dividendo per m0 e c4 e qui che non sono presenti me li devo trovare al denominatore eccoli qua questa è l'espressione che mi permette di trovare gamma gamma ripeto non è la velocità finale che è ciò che voglio trovare ma se troverò gamma poi potrò trovare la velocità finale allora andiamo a calcolare questo fattore gamma dunque innanzitutto calcoliamoci gamma 0 prendiamo la nostra finestra di python gamma 0 si calcola con questa relazione dove beta è b su c ok quindi scrivo beta 0 ok e beta 0 lo calcolo facendo velocità iniziale b0 già in python l'ho definita quindi la conosce diviso c definiamo una costante che si chiama c forse è più comodo c uguale a 3 per 10 alla 8 e quindi possiamo scrivere che beta 0 è pari a b0 su c beta 0 è 0,616 e così via andiamo avanti determiniamo a questo punto gamma 0 gamma 0 è pari a 1 fratto la radice quadrata di 1 meno beta 0 al quadrato quindi ripeto utilizzo in questa formula beta 0 cioè quello calcolato dal rapporto di velocità calcolato con la velocità iniziale quindi sto chiamando gamma 0 il risultato perché il fattore di Lorenz valido alla velocità iniziale circa 1,27 ok ora che ho gamma 0 possiamo calcolare completamente questa relazione quindi facciamo gamma uguale gamma 0 più delta d che è 15 per 10 alla 6 non ho assegnato non l'ho assegnato una variabile quindi non lo scrivo per Q che è la carica del protone va assegnata precedentemente diviso M che è la massa del protone qui si chiama M0 ma qui la devo chiamare M per C al quadrato allora questo nuovo gamma mi risulta 1,28 e poi c'è un 6 1,28 6 ok a questo punto da gamma mi devo trovare beta e poi da beta troverò la velocità quindi sapendo che gamma è questo e leviamo al quadrato quindi qua c'è un quadrato e qui non c'è più la radica ok bene a questo punto ricaviamo 1 meno beta quadro sto facendo il reciproco del secondo membro e lo è uguale al reciproco del primo membro ok bene e inoltre adesso isoliamo beta quadro questo meno beta quadro lo portiamo al secondo membro e diventa più beta quadro e al primo membro rimane 1 e arriva dal secondo membro un meno 1 fratto gamma quadro quindi abbiamo questa espressione per beta quadro e quindi scriviamo sotto l'espressione finale quella che mi dà beta quindi beta è pari alla radice quadrata di 1 meno 1 su gamma quadro allora andiamo a calcolare questa espressione usiamo di nuovo il calcolatore python gamma è già memorizzato e gamma eh sì esatto quindi scriviamo che beta è pari alla radice quadrata di 1 meno 1 su gamma al quadrato allora beta risulta 062 se voglio la velocità esatta la velocità espressa in metri al secondo ma sa ricordare la definizione di beta beta è pari a v su c quindi v è pari a beta per c e quindi se io adesso moltiplico questo beta per c trovo la velocità che è pari a questo numero me la stampo in forma un pochettino formattata facciamo punto 2 e che significa due decimali in notazione scientifica stampare 1,89 per 10 alla 8 metri al secondo quindi rispetto alla previsione della della fisica classica che mi diceva che la velocità passava dagli 1,85 per 10 alla 8 metri al secondo iniziali a questi che sono 1,93 per 10 alla 8 quindi da 1,85 a 1,93 secondo la fisica classica l'incremento è più modesto arriviamo a 1,89 da 1,85 a 1,89 la cosa ha senso perché secondo la relatività la massa della particella la massa relativistica cresce al crescere della velocità quindi la particella viene accelerata dal campo elettrico ma più acquista velocità più cresce la sua massa sappiamo che al crescere della massa a parità di forza l'accelerazione diminuisce quindi maggiore è la velocità acquistata dalla particella maggiore è la sua inerzia ovvero la sua resistenza ad acquistare nuova velocità e quindi c'è un incremento di velocità minore e questo è il motivo per cui le particelle non possono raggiungere la velocità della luce perché più si avvicinano a questo limite più tendono a diventare inerti cioè a porre ostacoli all'incremento di velocità quindi mentre secondo la fisica classica non ci sarebbe nulla di strano se trovassi che la particella viene accelerata fino alla velocità della luce e anche oltre ok nel caso della relatività questo non può succedere bene per concludere questa lezione assegniamo un esercizio un problema che sarà molto simile a questo che abbiamo sviluppato qui vediamo abbiamo un fascio di protoni che si trova all'interno di un condensatore piano formato da due armature delle dimensioni di centimetri 10 per centimetri 20 quindi ogni armatura è un rettangolo di 10 centimetri per 20 centimetri poste alla distanza di 2 millimetri tra le quali vi è il vuoto vi ho dato i dati sufficienti a calcolare la capacità di questo condensatore sapendo che la carica su ciascuna armatura è pari a 10 alla meno 5 coulomb determina il campo elettrico all'interno del condensatore beh se giocate un po' con queste relazioni non è difficile rispondere a questa prima domanda inoltre determina la velocità che acquista un protone che parte da fermo quando attraverso il condensatore quindi esattamente come in questo esercizio c'è un protone che entra in prossimità dell'armatura positiva ed esce nella percorre tutto il condensatore fino ad arrivare all'armatura negativa e poi magari esce solo che il protone parte da fermo quindi non c'è una velocità iniziale come in questo esercizio quindi il protone si trova vicino all'armatura positiva fermo e cammina aiutato dal campo elettrico chiaramente fino all'armatura negativa che velocità avrà quando è arrivato alla fine di questo tragitto quindi l'impostazione è la stessa che abbiamo dato adesso solo che non c'è la velocità iniziale non c'è l'energia cinetica iniziale rispondiamo a questa seconda domanda sia dal punto di vista della fisica classica e sia dal punto di vista della relatività allora questo problema costituirà un compito che adesso vi aprivo sul classroom vedete con attenzione il video e chiedetemi ovviamente ogni dubbio che vi dovesse sorgere ci vediamo ragazzi ciao